Dobbiamo partire dal primo tempo, dove Lecce ha disputato un'ottima gara sul piano del palleggio, della corsa, dello smarcamento e soprattutto delle azioni da gol. Al primo tempo la squadra meritava di essere in vantaggio, perché gli avversari siamo riusciti a metterli come volevamo nel loro centrocampo, abbiamo avuto una buona occasione da gol con Gustavo. Comunque la squadra è attaccata con continuità, con propulsione, con movimenti. Al secondo tempo c'è anche l'avversario, l'avversario ha una grandissima carattura tecnica e soprattutto ha un grande mestiere. La Salernitana non è in testa della classifica per caso, è una squadra che è molto difficile fargli gol e lo dobbiamo fare solo con i movimenti offensivi. Ci siamo abbassati un po' troppo, soprattutto col centrocampo, ma c'è anche il merito di un avversario che sa palleggiare a livello individuale in maniera importante, soprattutto nel reparto nevragico del campo, dove lì abbiamo pagato un po' le distanze. Però nella prestazione bisogna valutare il computo delle occasioni da gol e dove gli avversari nello specchio della porta riescono a colpire una sola volta sull'abilità di Colombo e una disattenzione nostra sulla zona, sulla traiettoria a palla. E questo ci fa masticare amaro perché il Lecce esce battuto ma non meritatamente. Nelle conclusioni da rete c'è quella del secondo minuto che è un rigore clamoroso. Trevisan la prende proprio con la mano e è chiaro che diventa un episodio importante perché sarebbe stata una palla inattiva determinante come la Salernitana è riuscita a battere molto bene su una palla inattiva. Poi è vero, il secondo tempo potevamo fare qualcosa di più per giocare contro queste squadre, serve anche il carattere, serve anche il cuore, cosa che il Lecce ha sempre dimostrato. Però abbiamo avuto un quarto d'ora dove abbiamo sbandato troppo, dove la palla doveva andare più in avanti anziché in orizzontale, un palleggio all'indietro. Questa è una nota che dovremmo cercare di correggere. Poi le abbiamo provate tutte anche con le caratteristiche nostre offensive, potevamo pareggiare con Embalo, insomma è un Lecce che esce battuto ma non meritatamente.